Amici dello sportello del cittadino, siamo a Taranto, in via Orazio Flacco, quella traversa che è situata tra via Plateia e via Cesare Battisti. Mi trovo nella foresta. Voi direte come? In città, in una zona centrale di Taranto, ti trovi in una foresta? Ebbene sì, guardate gli alberi che in questa via letteralmente entrano nelle abitazioni. Non è una metafora, non è una forzatura, non è una ironia quella che sto dicendo, ma è la realtà pura e semplice. Qui ci sono degli uffici pubblici, c'è l'Ispettorato del Lavoro, c'è l'Agenzia delle Entrate, c'è una banca, il Banco di Napoli. E vedete, l'amministrazione comunale non si è decisa, ma parlo da mesi e mesi per non dire da anni, non si è mai decisa di procedere alla potatura. È incredibile. Per una ragione non solo estetica, quello sarebbe niente, anzi potremmo godere dell'ombra. Ma il problema è una situazione proprio, consentitemelo, sanitaria, di igiene pubblica, di sicurezza pubblica. Perché immaginate voi i ratti, i gatti e qualsiasi altra tipologia di animale che può tranquillamente entrare nelle abitazioni, negli uffici. Ma pensate anche a questi uffici che praticamente si vedono murati vivi, perdono la possibilità di vedere, di guardare cosa c'è al di là della finestra dal momento che il verde, i rami e le foglie oscurano, obnubilano, sono proprio un muro. Non so in che altro modo dirlo, ma penso che ovviamente le immagini siano più eloquenti di ogni mio commento. Io dico, ma è possibile una cosa del genere? Eppure è visibile, eppure stiamo parlando di uffici pubblici che subiscono questa caricatura. Perché potremmo parlare di caricatura vera e propria, guardate, non so cosa dire, guardate. Oltretutto anche chi cammina rischia di essere colpito, per così dire, dai rami penzolanti. Siamo nel 2016, siamo a Taranto, non stiamo nella foresta amazzonica, eppure nessuno dell'amministrazione comunale si è mai degnato, ha mai avuto l'idea di dire potiamo questi alberi. E allora, Assessore Lonuce, Vice Sindaco Lonuce e Assessore Di Gregorio, Vice Sindaco Lonuce che si dichiara vicino alle problematiche della vivibilità, e Di Gregorio in quanto Assessore all'ambiente e quindi all'igiene pubblica, quando vi darete una mossa e quando poterete questi alberi, non so più come dirlo. Potiamo gli alberi, è una caricatura, ripeto, nel momento in cui registravo questo servizio mi veniva da ridere, perché dico ma è possibile che in una città che si dice civile possiamo assistere a questo scempio? Ebbene sì, accade a Taranto, è questa la foresta urbana. Grazie a tutti.